Il legno è una delle materie che di più in assoluto riesce a garantire un ottimo risultato per quel che riguarda l'economia circolare. La materia prima rinnovata infatti arriva all'industria del riciclo che ne fa mobile e l'industria del riciclo a pannello in Italia è un'eccellenza che ci viene riconosciuta da parte di tutto il mondo. Peraltro i riciclatori hanno avuto questa intelligente intuizione diversi anni fa quando ancora non si parlava di riciclo vero e proprio, dunque quando ancora il decreto Ronchi non era operativo e hanno riconvertito i loro macchinari per consentire all'Italia di rimanere eccellenza nel mondo. Ovvio che questo lavoro non potrebbe completarsi senza il coordinamento e il supporto del consorzio di legno. Con questa pratica l'industria del mobile in Italia è veramente un'eccellenza? Non solo l'industria del mobile è un'eccellenza ma c'è anche, si è anche sviluppato in questi ultimi anni, un'attenzione a tutto quello che è la parte di prevenzione, dunque che è il riuso creativo, il riciclo creativo, l'allungamento del ciclo di vita dell'imballaggio. Proprio per sostenere anche questa nicchia, che nicchia non è e che è molto diffusa, il consorzio ha di nuovo replicato il concorso legno d'ingegno, che è un concorso per i riusi creativi del legno negli ambienti domestici, dunque in casa. Il concorso si chiude il 30 di dicembre, nelle passate edizioni abbiamo avuto un'ottima partecipazione di pubblico e siamo convinti che anche questa volta, essendo un concorso, tra l'altro con un premio importante, perché il vincitore riceverà 10.000 euro, anche questa volta avremo un'ottima partecipazione di concorrenti, sia appassionati che architetti e designer. Grazie a tutti.